di futuro, di alleanze, eccetera, eccetera. Tu nel libro ci dici che non funziona niente, che è un progetto... No, 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 io non dico che non funziona niente, io dico che è sbagliata la matrice. Io dico che la maledizione dell'Europa nasce con non aver avuto il coraggio di mettere nella cosiddetta Costituzione, che poi non ha mai visto la luce, però il progetto partì, nella mancanza di coraggio di mettere leno su bianco le radici giudaico-cristiane. Quindi approntare un'identità a quest'Europa. Manca la concezione culturale, identitaria, filosofica, è tutto traslato a dinamiche che sono mercatiste, di mercato, di neoliberismo e quant'altro. Questo funziona in Europa, funziona perfettamente. Allora, la domanda che io mi pongo tutte le volte e che credo sia interessante da un punto di vista sociologico è perché una forza come AfD, che adesso la prendiamo come campione scolastico, perché una forza come AfD attira così tanto gli elettori, soprattutto i giovani? Perché evidentemente c'è uno scollamento tra quello che vorremmo e quello che c'è. Quindi hai in Europa, ma questo vale ancora più in Italia, redditi bassi. È vero che le medie ti dicono, le statistiche ti dicono che c'è più occupazione, ma se l'occupazione coincide con salario basso e scarsa qualità del lavoro, va da sé che l'elettore ha bisogno di trovare un interlocutore politico che gli dica delle cose del tipo io non ti escludo. Se ti senti rameloni, sei rovinato. Ma io sono libero di dire quello che voglio e l'ho scritto anche. Lei ci racconta che... No, ma il problema è la qualità del lavoro, è l'incidenza del proprio stipendio, del proprio salario rispetto alla vita, al costo della vita, rispetto a questioni che poi in partiti fortemente propagandistici, come può essere AfD, attirano. Quindi il tema è perché attirano così tanto. Perché i giovani... Guardate, in Germania, AfD è soprattutto un partito che attira i giovani. Allora vuol dire che i giovani credono che non ci sia un futuro. Credono che il futuro che gli stanno costruendo in nome della generazione Erasmus è fallimentare. Non trovano uno spiraglio. Potrei dirti estremismo o malattie infantili. Ma tutto quello che... Poi a un certo punto, però, non possiamo... Si cambia, eh? Però non possiamo, sì, però, non possiamo... Soprattutto se vanno in Europa, poi. Però non possiamo, a un certo punto, escludere le questioni sociali che esistono sia in Europa che esistono anche in Italia. Perché dopo scoppia, cioè questa cosa ci scoppia in faccia. Alessandro De Nicola, so che tu...